Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Un noto ed amatissimo ex protagonista del dating show Uomini e Donne è tornato con lei, è successo tutto lontano dalle telecamere E' stata movimentata anche per alcuni dei più amati protagonisti di Uomini e Donne Cavalieri, dame e tromisti sono alle prese con le consuete vacanze prima del ritorno del dating show a settembre su canale 5 Momenti di relax che amano condividere attraverso i rispettivi profili social per tenere aggiornati anche tutti coloro che da anni li seguono I video e le immagini pubblicate sui social diventano spesso anche dei veri e propri indizi per capire se i protagonisti più amati torneranno in studio a settembre Questo è il caso di Marcello Messina che però a quanto pare non farà il suo ritorno del dating show Marcello ha fatto il suo arrivo nello studio del noto dating show all'inizio della scorsa edizione Un arrivo che ha animato lo studio anche perché il cavaliere ha subito dato il via ad una burrascosa frequentazione con la storica dama Ida Platano La storia tra i due è finita nel peggiore dei modi ovvero con frecciatine ed attacchi al veleno Nel corso del programma, il cavaliere è stato anche messo sotto accuse da Armando incarnato con ipotesi di ulteriori frequentazioni di Marcello fuori dallo studio In realtà durante il programma Marcello ha deciso di regalare un clamoroso colpo di scena ma soprattutto di prendere una coraggiosa decisione Il cavaliere ha infatti lasciato il format per provare a frequentare Viviana, una donna conosciuta lontano dalle telecamere All'inizio il rapporto tra i due è parso complicato ed in una occasione hanno scelto anche di prendere strade diverse Alcune recenti stories pubblicate dalla donna in piscina la mostrano però in compagnia di Marcello, un dettaglio che conferma quindi come tra i due sia tornato il sereno Una buona notizia per il cavaliere che ha sempre raccontato di tenere in modo particolare a Viviana Allo stesso tempo però la notizia del loro ritorno insieme conferma anche come Marcello non sarà più presente nello studio del noto dating show quando tornerà in onda il prossimo mese di settembre Anche perché le prime registrazioni sono previste tra circa due settimane e l'ex cavaliere sembrerebbe essere particolarmente sereno ma soprattutto molto innamorato di Viviana Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao ci vediamo nei prossimi video Ciao! 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 Mi, 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 mi